I miei mi hanno mandato una conferma a via. Oh, finalmente conoscerò la tua famiglia! Oh, immagino tu sei entusiasta. Non sembri entusiasta, sei entusiasta, vero? I genitori non li hai mai incontrati. Prima che ci mettessimo insieme sono partiti. Ehi! Billy e Lily McDermott, i miei genitori. Molto piacere, Neil. Sei un uomo avvenente, ringrazio. Ma era un complimento. È troppo, però. Pensavamo che meritaste qualcosa di meglio. Quel macinino è deprimente. Papà, dagli una possibilità. Che cosa fa esattamente il direttore di una banca? Ho il controllo dell'antichurto, sono il bus! Adesso spero che ci garantiscano una giornata tranquilla. E sto a me rapinare! Dati tuoi a rapinare la banca! Stai scherzando, vero? Sapevano il codice di attivazione vocale del cavo e sono certo di averlo detto a tua madre da ubriaco. She left me roses by stairs! Grazie a aver letto l'apparazione, oh wait! E il nome Baditi Fantasma ti dice Baditi? Conosco gli altri più famosi d'America. Oh, Parker! No! I tuoi genitori mi hanno rubato 5 milioni di dollari. Diceva sul sale. Servono 5 milioni tra due giorni. Il direttore di una banca potrebbe esservi utile. Quindi farete un'altra rapina, se è per salvare Parker. La rapina è come? Sembra un duro. Proprio come James Bond. E quale? Il quinto. Ah, quello è lì. Oh, Jim, ma il mio... E sa quante decisioni discutibili abbiamo preso per cadere così in basso. Perdonatevi, Gesù, Giuseppe e Maria! Non mi riconosco più, cavolo! Una bella famiglia felice. Perdonatevi, Gesù, Giuseppe e Maria!